Sei ben organizzato? È un po' come la tua stanza qui. Non è rischioso? Se ne fregano lassù. Ne comprano subito un altro paio. Non potevo tornare prima. Tutto bene? Sì. Stronzo! Vai a farti fuori! E non tornare! Mi presti dei soldi? È merce di stoccaggio, signore. Le consiglio di prendere questo modello. Quanto costa il casco? 40. 40? E non hai amici o fratelli, sorelle? No, sono solo. Vuoi sederti con noi? Oh sì, grazie. Tuo fratello mi vuole vendere degli sci. La nostra famiglia è un casino, per questo lui è qui. Vai bene. C'era un orologio in bagno. Adesso non c'è più. L'avete preso voi? Posso dormire con te? No. E se ti do 100 franchi? 200. Vuoi vendere sci per tutta la vita? Ancora più lontano! Più lontano! Più lontano! Più lontano! Hai fatto un po' di spesa? Tranquilla, sister. Sicuro che sono freschi? Sì, sono di stamattina. Dai! Lascia! Girati. Allora? Sì, ti stanno bene. Ti fanno un bel culo. Che scemo! Sei mai salito sulla BMW? No, mai. Dai, vuoi. Non, mai. Ti fanno un buco la baceria. Non, mai. Ti fanno un buco gioco.